Siamo con Stefano Gigli della società SportFan che importa in Italia il SAP, Stand Up Paddling, una specie di tavola da surf gonfiabile dotata di remi per muoversi in mare. Stefano, raccontaci questo prodotto, come funziona? Praticamente è semplicissimo una tavola da surf più grande, dove con l'ausilio di un remo ci si può spostare per poter fare delle escursioni in acqua piatta o anche meglio per i più abili nelle onde. Io rappresento la Hobby, SAP. Hobby è un marchio molto conosciuto nella nautica con Hobby Cat o Hobby Kayak. Hobby ha iniziato la sua storia con il surf da onda e propone sul mercato mondiale, già da diversi anni, il prodotto Stand Up Paddling, fra cui una conduzione basta dove si inserisce il prodotto gonfiabile. Il prodotto gonfiabile è un prodotto versatile rispetto a un prodotto standard tradizionale perché lo si può chiudere e riporre dentro il gavone della barca e con una pompa semplicissima si può gonfiare e divertirsi per fare queste escursioni. Quindi credo che sia un ottimo accessorio per un'imbarcazione e un appassionato degli sport acquatici. Ok, semplicissimo, si apre. Ci sono due pinne in gomma. La terza viene fissata solamente quando il SAP è gonfio. è dotato di diversi accessori, manellino, maniglie, porto oggetti, delle sacche stagne. Con una pompa. Una volta gonfiato, c'è una maniglia semplicissima per trasportarlo, quindi per metterlo in acqua. La maniglia è centrale perché puoi camminare centralmente, oppure per la barca si può tirare su da un biglio. Quanto pesa? 12 kg. E quanto costa? 800 euro. Con l'ausilio di una pagaglia può essere telescopica per il discorso dell'altezza, il sale, il motore. Alla prossima. Ciao.